Ciao a tutti e bentornati su Assassin's Creed 3 Allora, siamo di nuovo con Item Canoe e adesso dobbiamo provare la nostra fedeltà all'Indiana che ci porterà alla porta dei precursori Ok, bene, adesso entriamo Non trovo il carro Non è di qua Guarda Allora Sotto Che arriva Andiamoci Oh, io non lo vedo Eccola, eccola, eccola Guarda Corri Cosa fa? Corri Ok, giustamente non mi vedono Ok Bene Entriamo Ok Ok, sabato Sabato ha cannoni e non devo uccidere nessuno Bene Dovevo fare anche due Un ascolto Ok Si è fermato Adesso devo uscire Bene Fantastico E facciamo E facciamo l'ascolto E facciamo l'ascolto Che ho giocato E ho giocato perché Ci sono un problema con le cuffie Quindi devo farlo adesso E quando ho giocato Non avevo capito che E non mi sono uccidere nessuno Perché ero troppo concentrato Adesso mi rendo conto che Devo stare più attento Infatti ho lasciato il corpo In bella vista come un idiota No Non devo andare ancora a vedere Tanto di se no No, 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 no Mi sento poco Devo correre Troppo lontano Guarda chi è solo Sul suo cuore Ok Sono fermato Mi Ok Adesso devo prendere La mappa Che è là dentro Ok, adesso mi sono reso conto Che non devo uccidere nessuno Ma ormai è troppo tardi Ok 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 Adesso deve essere portare Ok 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 e il cannone è qua sotto bene questo scendiamo e facciamo la scorciatoia che conosco solo io ok salta senza camere ok bello dai dov'è? non va bene eccolo eccolo faccio il cionato posso ucciderlo ok dai 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 non uccidiamolo dai cioè uccidiamo... lo demettiamo bene adesso andiamo a... ah no ok sono stato molto intelligente questa volta non vi faccio vedere il corpo e se potremmo il camere ok adesso possiamo anche uscire non c'è nessuno no bene esci dai su esci bravo qui non siete niente ovviamente che vi arrivo da dietro ok ok dai corriamo ok dai corriamo ok ok bene un bel dato al 100% adesso ci muoviamo il cavallo chiamiamo il cavallo ok bravo molto intelligente ok se ne si materializza e rimettiamo la macellate e e e pistola ok adesso comincia cosa no e no e no cavallo odiato ok e adesso comincia l'incubo del attraversare i fiumi obiettili obiettili ok رفie ECU che sono obiettili devo fare solo 500 metri non è difficile un altro fantastico bug ok qui dovremmo passare poi non dobbiamo più attraversare il fiume ho deciso che non devo più attraversarlo dai con calma vai più forte non pochi metri cosa è arrivato? saltiamo e saltiamo e saltiamo ok dai ok saltiamo forse c'è il ponte ok c'è ok ok viene in giro ok non smontano apriamo la porta 5 minuti dopo alla bright taverna qui sono i bronzoni sono anche i piedi mettiamoci in moto bene evidentemente ok 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 Cosa? Do you need a bulldog? Cosa? Please! We'll be an hour to be soon enough to run to the next. Where's your boy Lee? Return to finish our service on the bracket. I imagine the bulldogs none too pleased after this time. Please to spin a tale of my accompanies and beg forgiveness. It is a wave of words, especially when it comes to fluttering. I expect he'll be welcomed back to the open arms. Which would give us a man in service? Precisely. If I have, Charles would sense he'd prefer to remove his escape. He's not clever. He's not clever. He's not clever. He's not clever. All these men are from many different tribes. United in their desire to see Gladys and Dwight. The Avanaki, Avanapre, Shani. And you? Who do you stand for? Myself. What would you have to do? What would you have to do? We will help the others to prepare. Follow. They come. Everything all right, sir? Just savoring the moment. No doubt. Many wonder why it is we've pushed so far west. These are wild lands, as yet untamed and unsettled. And it shall not always be so. In time, our holdings will no longer suffice. And that day is closer than you think. We must ensure our people have ample room to grow and further prosper. Which means, we need more land. The French understand this. And endeavor to prevent such growth. They skirt around our territory, erecting forts and forging alliances. Awaiting the day they might strangle us with the noose they've built. This must not come to pass. We must sever the core and send them back. This is why we ride. To offer them one last chance. The French will leave. Or they will die! Now is the time to strike? Wait. Discussing the expedition is not enough. Mr. Braddock Forks, this is sure to try again. Disguise myself as one of his own. Look away to his side. Your ambush will find the perfect cover for you to deliver the killing blow. Okay. Okay. Today he is already entered there. Let's go! These shots were. Let's go in front. Receive shots. Eeeh, ma sono andato in compito Ok, intanto Un'idiotica Parla Intanto non è un problema di generare la barba E' morto, bene C'è un ruolo molto rosso? Ok No, ok, ho sbagliato, ma che cosa fa? Vabbè, ehm Calca fino alla posizione di barba Non posso andare più forte Eccolo E gli ha sparato, così Edwin Edwin E' stato anche da un'erta Scappato Oh, so... E' un controlla Dracal Dai su Corri Dai che è un giro in volo Passo sparare, eccolo, forse riesco a giungarti, no ma che se è una realtà, allora morri, dai che lo raggiungiamo, è troppo lontano, e il Badoo è di cade l'albero davanti, è fantastico. Oh ma che dice l'albero più? Oh comech realmente? Quella non, oh, no e a un'albero davanti.. Ok dai, corriamo lì dietro, eccolo Beh qui non è a ballo, da dove? Il movimento, attenzione 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 No Il movimento, attenzione Il movimento, attenzione Il movimento, attenzione 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 Il movimento, attenzione 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 Il movimento, 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 attenzione Attenzione Il movimento, attenzione Il movimento, attenzione Il movimento, attenzione Attenzione Il movimento, attenzione 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 Salute 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 Non aveva capito o forse ci hai pensato Va bene, abbiamo finalmente terminato la terza sequenza Bene E finalmente il signor Desmond si sgrilla Si Si tutti si vede, certo? Wow Si 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 S Si 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 non è qui. Desmond, fai questo, Desmond, fai questo. Desmond, fai meglio che ci sia se fosse come il sole, perché il sole è tornare alla fine aci, e io so che io ero davvero molto bene con te, ma in realtà sono proprio un altro plottone templari, e sì, io voglio molto che tu sia controllato da un magico spazio, per che tu possa me uccidere. Quindi c'è tua domanda. Io sono amicato di essere un poffi. Ho pensato di essere un poffi. Sei mio padre, e in realtà sei che sei più meglio che i templari. Grazie a tutti. 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 E a mangiare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E alla fine. E l'ultimo. E a mangiare. va bene. e a mangiare. e a mangiare. felice. e... e mi metto... e mi metto... e mi metto... a mangiare. 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 I più nole. a mangiare. a mangiare. tra una mortazza in testa, non vedo qui niente ma non è cosa niente, è fumo attenzione, è fumo ma che cos'è? nebbia è nebbia, non è fumo è più l'aceno dai, se non è discesa, ce la puoi fare cosa no? oddio, non ho bruciato il villaggio questi baduoni hanno bruciato il villaggio e lui corre a due allora poi non c'è un strano, è un bambino torna a casa attenzione, mi si crea una strada lui no, è troppo intelligente per passare sotto ai tronchi, no, lui li deve sollevare mai forte sempre il contrario mamma mia, ho già l'istinto qua ci passa, invece e scavacarla, non è dopo difficile e si crea un agitamento attraverso i blocchi che può essere e qui non c'è l'attaccia, non si sta sta facendo il video e qui, su, 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 mi aiuto ovviamente non c'è non c'è l'attaccia ma non c'è l'ha non c'è l'attaccia non c'è l'attaccia ma non c'è l'attaccia non c'è l'attaccia e che fa e abbiamo obbietato la sfiduazione a scommarare nove anni dopo questo è tutto per oggi e ci vediamo alla prossima con ossessi iscritti ciao a tutti da Italian Jam